Il numero di informazioni che riceviamo durante la nostra giornata è veramente incredibile. Forse non ve ne accorgete nemmeno, ma tutti i giorni memorizziamo decine se non centinaia di cose nuove. Queste informazioni però, anche dopo pochi giorni, diventano obsolete e sinceramente avrete sentito anche detti e credenze popolari pseudoscientifici che in realtà sono ormai stati falsificati o appunto resi obsoleti. Mettetevi comodi, sedetevi sulla vostra poltrona preferita perché adesso andremo a svelarvi i dieci miti a cui ancora credete ma che ormai sono stati falsificati. Deciate un grosso mi piace e non dedicatevi nemmeno ad iscrivervi al canale, se siete nuovi attivate la campanellina ed iniziamo subito con questo video. Numero 10. Qual è la montagna più alta sul nostro pianeta? Ah, e questo è facile, deve sicuramente essere il monte Everest, giusto? Ebbene no, vi sbagliate, non si tratta del monte Everest e nemmeno del K2. L'Everest è sicuramente la cima più alta al mondo, ma se andiamo a misurare l'altezza effettiva di una montagna, dai piedi alla punta, quella più alta è un'altra. Si tratta infatti di un vulcano chiamato Muanakea, situato nelle Hawaii. Oltre ad essere il picco più alto delle Hawaii con i suoi 4207 metri oltre il livello del mare, gran parte del vulcano però si trova sommerso nell'acqua. Se infatti andiamo a misurare dalla base su cui poggia nell'abisso marino questo vulcano, raggiunge superi 10.000 metri d'altezza. Con questa altezza appunto si tratta proprio della cima più alta del pianeta, ma nessuno ne parla mai, forse perché la maggior parte della sua imponente grandezza è nascosta sott'acqua. Sì, tecnicamente è una montagna barra vulcano sommerso, ma l'altezza effettiva rimane quella. Numero 9, la regola dei 5 secondi. Stai tranquillamente seduto al tavolo ad ammirare tutte le bellissime pietanze che stai per assaggiare, cominci un pochino a muovere il braccio e senza nemmeno accorgertene fai cadere un bel dolcetto per terra. Ah che peccato, l'avevo pagato quel dolcetto. Ti ricordi però che hai ben 5 secondi di tempo per poterlo prendere e mangiare prima che i batteri comincino ad attaccarlo? Beh, questa regola è semplicemente stupida. Nessun batterio e nemmeno lo sporco aspetterà ben 5 secondi prima di approfittare della situazione e seguire le proprie leggi della chimica e fisica, anzi inizierà da subito ad interagire con la deliziosa sostanza che avete appena fatto cadere. Cosa vi aspettavate? Che questi batteri fossero talmente gentili da darvi il tempo di riprendere il vostro cibo? Eh, mi dispiace ma se avete mai mangiato qualcosa oltre o anche entro i 5 secondi da quando era caduto, beh, avete sicuramente ingoiato anche qualche piccolo microbo maligno. Numero 8. Le cellule del cervello non si rigenerano. Fino a circa un decennio fa si credeva che le cellule del cervello non potessero autorigenerarsi una volta morte, erano morte per sempre, ma non è così. Questa notizia è stata più volte ribadita dai diversi media, ma non tutti ancora sembrano averlo capito. Questa scoperta infatti è arrivata già nel 1960 e ci sono voluti oltre 50 anni per riuscire ad eliminare l'idea contraria dalla mente della popolazione. Infatti le cellule del cervello si rigenerano eccome e anche piuttosto velocemente. Ovviamente ci sono dettagli piuttosto tecnici e condizioni varie, ma nel caso abbiate subito dei danni al cervello non c'è da preoccuparsi troppo. È stato provato infatti che le cellule del cervello possono riparare qualsiasi tipo di problema e la maggior parte del danno verrà automaticamente appunto ricostruito. Potreste persino ottenere qualche abilità in più, come il parlare un'altra lingua senza nemmeno averla mai studiata. Beh, non funziona esattamente così, ma guardate il video sui cubi sulle dieci malattie che danno superpoteri se vi interessa approfondire questa cosa. Numero 7. Ruote di gomma. Siete mai stati colpiti da un fulmine mentre eravate seduti in un'auto? È un avvenimento raro, ma molto meno raro che essere colpiti da un fulmine ai piedi senza protezioni. Molti pensano che siano proprio le ruote di gomma a proteggervi dai fulmini se essi colpiscono l'auto. In realtà non potrebbe essere più lontano dalla verità questa cosa. Quello che in realtà fa un fulmine è cercare di arrivare da un punto all'altro trovando e passando attraverso il percorso più breve e con meno resistenza possibile. La scarica elettrica colpirà la vostra auto e passerà attraverso la carrozzeria e andrà infine a scendere e a scaricarsi al suolo senza nemmeno toccare le ruote di gomma. Una cosa che però vi fa capire che funziona esattamente così è quando uscite dall'auto e toccate la carrozzeria avrete sicuramente ricevuto qualche scossa una volta ogni tanto. Beh è esattamente come funziona. Durante una bella tempesta con tanti fulmini cercate di non toccare la carrozzeria esterna. E la prossima volta che incappate in una tempesta di fulmini appunto non andate sotto un albero ma entrate in auto e chiudete le portiere. Ricordate però che le auto decappotabili e le moto non sono la migliore cosa da guidare sotto un cielo tempestoso. Numero 6. L'effetto dello zucchero sulle persone. Tralasciando l'effetto che fa appunto ingrassare le persone bisogna sapere che la credenza popolare del fatto che mangiare dello zucchero prima di andare a dormire porta a iperattività è semplicemente scorretta. Diversi studi hanno confermato che lo zucchero non ha nessun effetto o non ha nessuna relazione con l'iperattività notturna. Spesso questa è data appunto dal fatto che state al cellulare o semplicemente perché non avete fatto movimento fisico o non vi siete stancati durante la giornata. Inoltre gran parte del motivo per cui vi sentite più attivi se mangiate della cioccolata la notte è proprio derivato da un effetto psicologico che a sua volta è derivato da questa credenza più che da un effetto chimico vero e proprio. Questa credenza infatti è qualcosa che va avanti da moltissimo tempo e credo sia arrivato il momento di metterla a tacere per un po'. Numero 5. I vaccini causano autismo. Una delle idee più assurde ancora oggi diffuse è proprio il fatto che moltissime persone credono che i vaccini causino autismo. Probabilmente sono le stesse persone che credono a qualsiasi teoria complottista li tiri addosso. Questo mito è stato generato da una rivista scientifica nel 1998 proprio a causa della loro pubblicazione di una ricerca. Questa ricerca mostrava che secondo i loro test e studi statistici l'autismo aveva un collegamento con i vaccini e proprio questi forse ne causavano la presenza. Ovviamente lo studio fu poi discreditato in quanto era stato creato solo per ottenere un po' di fama e i risultati erano stati fortemente interpretati in un certo modo. La rivista ha deciso di scusarsi per l'errore che avevano fatto e di includere questa ricerca ma era ormai troppo tardi. La paura dei vaccini si era ormai diffusa in tutto il mondo e moltissimi avevano cominciato a credere che fosse vero decidendo di non vaccinare i propri bambini. Ma proprio a causa della loro scelta molti di questi bambini non ce l'hanno fatta o hanno contratto malattie o addirittura sono stati vittime di gravi problemi di salute. Numero 4. La luna piena influenza le persone. Fin dei tempi antichi si è sempre creduto in moltissime culture che la luna piena abbia un qualche effetto sul nostro sistema e sulla nostra mente permettendoci e portandoci a fare cose che non faremmo mai in altri casi. Probabilmente solo i lupi mannari ne sono veramente affetti da questa cosa. Moltissimi sono i casi di criminali che fin dai tempi antichi si giustificarono dicendo che era stata proprio la luna piena a far fare loro quello che hanno fatto. Infatti nelle credenze di moltissime culture in tutto il mondo è sempre esistito un qualche tipo di collegamento tra il comportamento umano e la luna piena. Diversi studi hanno anche dimostrato che questo semplicemente non è vero e la maggior parte di queste teorie sono semplicemente infondate. Numero 3. Gli acidi bruciano la pelle. Per quanto potrebbe essere vero che gli acidi fanno male alla pelle è anche vero che con un acido non si intende proprio una sostanza che deve per forza bruciarvi. Pensate che abbiamo degli acidi in continua funzione anche all'interno del nostro corpo e sono presenti in moltissimi alimenti che ingeriamo. Sono una parte fondamentale del mondo organico e non tutti sono pericolosi per la pelle. Pensate per esempio all'aceto. Non mi sembra che si sia mai bruciato qualcuno con questo. C'è assolutamente da dire che gli acidi non sono sostanze che non si trovano in commercio ed è anche facile entrarne in possesso di uno potentissimo che effettivamente potrebbe danneggiare la pelle. Molto spesso i criminali ne fanno uso e spesso, soprattutto in Medioriente, viene usato come arma principale per piccoli attacchi ed altre persone. Una cosa importante è sapere esattamente come funzionano e cosa fare nel caso anche una sola goccia di questo acido vi tocchi la pelle. Numero 2. Il Big Ben La maggior parte delle persone crede che il Big Ben sia questa grandissima torre simbolo della Gran Bretagna e di Londra. Sono tantissimi souvenir, le cartoline e altri piccoli regalini che rappresentano proprio questa struttura. In realtà il nome Big Ben è quello dato alla gigantesca campana nascosta dietro l'orologio e non all'edificio stesso. A nessuno però piaceva l'idea di dare il nome della campana anche all'edificio stesso. Per moltissimo tempo infatti fu chiamata la Torre di Santo Stefano. Solo nel 2012 il nome venne cambiato in la Torre di Elisabetta per onorare proprio la Regina Corrente. Ovviamente per rendere la vita più facile ai turisti la torre e la zona viene ancora indicata come il Big Ben e probabilmente anche dopo questo video continueranno tutti a chiamare questa torre con il nome della campana posta al suo interno. Numero 1. Il deserto più grande al mondo Quello che è il deserto più grande al mondo non è per niente uguale all'immagine del classico deserto sabbioso che abbiamo in mente. Non si tratta del deserto del Sahara africano ma dell'Antartide. Con deserto infatti si intende proprio un posto desolato, quasi senza vita e che non mostra appunto segni di attività troppo evidenti. L'Antartide infatti situato verso il polo sud del nostro pianeta è il più grande e vero e proprio deserto nel vero senso della parola. Si tratta di una distesa di lastre di ghiaccio alte anche diverse centinaia di metri e le forme di vita sono minime per la maggior parte dell'estensione completamente assenti. Mentre il Sahara copre un'area gigantesca di circa 9 milioni e 200 mila chilometri quadrati, l'Antartide copre un'area di ben 14 milioni di chilometri quadrati, insomma praticamente mezzo Sahara in più. Si tratta inoltre di uno dei luoghi meno esplorati e ospitali del pianeta e solo negli ultimi 50 anni è stato possibile effettuare scoperti incredibili in questo luogo come possibili piramidi di antiche civiltà nascoste proprio sotto questo ghiaccio. Ne parlo in un video su Quby chiamato 10 cose misteriose ritrovate ghiacciate in Antartide, potete andare a vederlo proprio sul canale di Quby se volete. E queste ragazzi erano 10 nozioni che probabilmente avrete assimilato durante la vostra vita ma che sono state rivelate false, obsolete o semplicemente sono cambiate nel tempo. Quali vi hanno sorpreso di più? Lasciate un grosso mi piace per una seconda parte che farò appena raggiungiamo i 15 mila mi piace, iscrivetevi se siete nuovi al canale e non indicatevi nemmeno di seguire Infinito Now e Quby Now su Instagram per moltissime altre curiosità tutti i giorni.